Per una donna e per un uomo sono poche le cose importanti nella vita, i sensi, il piacere, il sesso. Su questi tre punti si basa l'esistenza e la ragione per la quale tutti i giorni apriamo gli occhi, sperando che attraverso i sensi possiamo scoprire il piacere della propria mente, per concluderlo con la semplicità del sesso con qualcuno o sempre lo stesso, ogni volta diverso, ma è la stessissima cosa perché in ognuno dei due casi regnano i sensi, il piacere, il sesso.